A San Salvatore di Fitalia c'è grande attesa per la Via Crucis Vivente. Domenica 24 marzo, a partire dalle 15, torna la suggestiva rievocazione della Passione e morte di Gesù Cristo, tratta dal Vangelo secondo Marco e interpretata nel rito della Chiesa con immagini dinamiche. Circa 200 i figuranti coinvolti, che insieme ai pellegrini sfileranno in processione per le vie del paese, che per l'occasione si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico itinerante. Domenica sentita, a San Salvatore di Fitalia, la festa delle palme. Di mattina la processione di San Caloggio e Sant'Antonio della Padova e la benedizione delle palme appunto. Nel pomeriggio torna la Via Crucis Vivente, che in qualche modo ha coinvolto tutto il paese, 200 figuranti, 19 scene, un percorso straordinario lungo le vie del centro storico e del centro cittadino, con il culmine, con la crocifissione e la resurrezione in terza sacralogica. Non è stato difficilissimo, perché c'è stata la passione e la voglia di tutti i fitalesi di fare questo evento, l'hanno sentito e lo stiamo portando a complimenti. Abbiamo avuto notizie che tante persone si stanno informando per arrivare a San Salvatore di Fitalia, abbiamo avuto risposto anche la giusura al transito del centro urbano per consentire una migliore riuscita della manifestazione. Aspettiamo appunto tante persone. Appuntamento dunque? Appuntamento è il 24 marzo, giornata della festa delle palme, San Salvatore di Fitalia.